Abbiamo scelto la parte di Cortex dalle sue origini, abbiamo seguito tutta la sua evoluzione e presente anche uno dei primissimi clienti in tutta Sud Europa che lo ha acquistato, che è stato veramente un precursore che ha avuto molta fiducia in questa tecnologia come noi l'abbiamo. Io penso che nel mercato della cyber security gli end point avranno sempre di più un ruolo importante, un ruolo fondamentale nel riconoscere i comportamenti di eventuali effetti malevoli che possano attaccare le nostre network. Detto questo, la parte di intelligenza artificiale, di features di comportamento, di tool che possano aiutarci a ritornare a, non a ritornare, a continuare a perseguire il primo diktat di Palo Alto che è stato visibility, cioè quello che ci interessa è vedere, capire cosa sta succedendo e proteggerci con delle informazioni pertinenti per la nostra azienda. Palo Alto sta facendo un lavoro straordinario, ma non voglio togliere la parola ai colleghi che adesso ve lo racconteranno meglio di me, ma il progresso che voi state dando a questo prodotto, a questa integrazione con tutto il resto dei tasselli di network security, di cyber security che Palo Alto ha messo a disposizione, è straordinario. Devo dire che siamo rimasti, noi che siamo riconosciuti come un team profondamente tecnico, sorpresi ogni volta dalla qualità e dal vantaggio che viene offerto ai clienti dalla vostra soluzione. Detto questo, io vi passerei la presentazione per dare più spazio possibile alle domande. Emanuele Mornini e Daniele Nicita vi racconteranno nel dettaglio come questo prodotto si evolve, si evolverà, com'è, e ci sarà anche una demo e qualsiasi domanda voi vogliate fare scrivetemela nella chat e poi la approfondiremo. Grazie a tutti. Perfetto. Buongiorno a tutti. Io sono Emanuele Mornini e seguo la parte, diciamo, commerciale di Cortex per quanto riguarda il Nord Italia. Daniele Nicita, prevendita sempre su Cortex, ma su Italia, Grecia e Malta. Io e Daniele ci occupiamo esclusivamente di Cortex. Cortex fa parte di una grande famiglia chiamata appunto Palo Alto Networks. Questa famiglia è composta non solo da Cortex, ma anche da Prisma per quanto concerne la cloud security, Strata per quanto concerne la parte di Next Generation Firewall e ovviamente Cortex. Cortex è quella divisione che ha come obiettivo aiutare le persone che fanno tutti i giorni security, quindi la security operation. Il team di security operation è presente da decenni in azienda, dai primissimi, diciamo, i primissimi virus fine anni 90 fino ad arrivare adesso ad attacchi avanzati e quindi il team di security operation ha preso importanza in azienda, nell'organigramma, con un proprio budget, con dei propri ruoli ben precisi. Quindi mi viene in mente l'analista, il stock manager, la parte di cert e quant'altro. Questo team è sempre stato, ogni giorno viene apprezzato sempre di più, ma si porta addietro una serie di problematiche, problematiche che derivano da una serie dei componenti, in primis dal mercato appunto della security, ne parlavamo prima in precedenza, prima della, diciamo, dell'inizio della presentazione. Il fatto che il mercato della sicurezza non aiuta, nel senso che ci sono tantissimi vendor che fanno cose estremamente verticali, magari molto, molto bene, ma fanno solo e soltanto questa cosa. E questo di per sé non è un male, ma quando un analista deve andare a gestire un incidente informatico, deve andare a unire tutte queste tecnologie diverse e quindi a perdere tantissimo tempo per appunto andare a indirizzare l'incidente. Vi ricordo che il tempo è una componente fondamentale per appunto un team di security operation, perché più in tempo impiego a reagire a un incidente informatico, più soldi andrò a perdere, più aumento comunque la finestra del rischio dell'azienda. Poi c'è anche tutto un altro discorso di task manuali. Oggi un team di security operation fa tantissimi task, anche delle banali mail o apertura ticket, o richieste magari telefoniche a un collega, a un altro gruppo di lavoro. E quindi sono quei minuti preziosi, quelle ore preziose che possono essere di fatto automatizzate e rendere la vita un po' più semplice all'utente finale. Quindi il nostro obiettivo, l'obiettivo della divisione Cortex, è portare, guardando questo maturity model, è portare i nostri clienti da una zona rossa che vediamo sulla sinistra a portare un modello di security operation più proattivo. Solitamente oggi la security operation è molto reattiva, nel senso che ci hanno bucato, sta succedendo qualcosa, andiamo a fare una query sul SIEM, o comunque andiamo a fare due query sui nostri sistemi. Di fatto non funziona così. L'incident management è qualcosa di un po' più ambizioso, è qualcosa che il team di security operation vuole real time e soprattutto reattivo. Cortex serve appunto per far maturare i clienti e portarli sulla parte proattiva. Come? Con analytics e tutta la parte di automation. Quindi togliere tutto quel lavoro, tra virgolette, a basso valore aggiunto e dare tempo prezioso, restituire il tempo prezioso agli analisti per fare indagini su un problema che richiede l'esperienza di un analista e richiede magari la conoscenza aziendale di quell'analista. Cortex lo fa in un approccio unico che adesso, nella prossima slide, Daniele ci presenterà. Daniele, ti passo la palla. Mi senti? Sì, sì. Eccoci qua. Voi mi sentite? Sì, immagino. Andiamo in present mode. Se ci sono domande scrivetemele tranquillamente in chat in modo da, anche se non verbalmente, teniamo la cosa un po' più interessante. Questo è il nostro SOC. Come diceva Emanuele, scopo di tutto è fare in modo che i nostri analisti facciano quello per cui sono pagato, ovvero sì, è il lavoro di analista, non facciano quello che può essere in qualche maniera replicato o sostituito da tecnologia. Il nostro SOC come lavora? Ha tutta una serie di prodotti, chiamiamoli, per quanto riguarda security operation, potremmo chiamarli friction, ovvero sia tutto quello che è utilizzabile per andare a rallentare o bloccare del tutto gli attacchi informatici. Quindi abbiamo soluzioni network, i nostri firewall per bloccare attacchi che arrivano attraverso il perimetro, con tutte le varie moduli possibili e immaginabili che abbiamo dentro i nostri next generation firewall. Abbiamo tutta una serie di soluzioni, ovviamente non nostre, per la protezione di tutto quello che non è relativo a ciò che offriamo, quindi posso pensare posta elettronica, antispam e altre cose del genere. Abbiamo soluzioni in point, quindi la nostra soluzione Cortex XDR che fa tantissime cose, tra cui EPP, EDR, poi vediamo più in dettaglio come durante le slide e anche magari durante la demo. E poi abbiamo tutta una serie di soluzioni cloud. Queste soluzioni fanno due cose, in sostanza. La prima è bloccano quello che riescono a bloccare e la seconda cosa creano tanti, tanti, tanti log. Queste informazioni sono preziose per l'analista e quindi queste informazioni noi le andiamo a mettere dove? Dentro Cortex XDR, che è la nostra soluzione, se vogliamo, di incident analysis. Quindi l'analista, al 90% del suo tempo, lo impiegherà all'interno di questa piattaforma per fare che cosa? Per fare incident analysis, per capire quello che sta succedendo e per gestire gli incidenti di sicurezza informatici. Per quanto riguarda invece XOR, quello che prima Emanuele diceva, la possibilità di automatizzare processi ripetitivi, è il nostro motore di XOR, ovvero Security Orchestration Automation Response. Soar lo utilizziamo per fare che cosa? Per essere sicuri che all'interno del nostro security operation tutte le procedure di gestione degli incidenti vengano rispettate e soprattutto siano più possibili automatizzate. Questo ci permette di avere una riduzione del, o meglio, un raddoppio dell'efficacia del nostro personale circa del 100%, ovvero sia il nostro SOAR e il nostro XDR ci permettono di risparmiare vuoto per pieno lo stesso numero di analisti che abbiamo all'interno del nostro SOAR. Quindi tutto il tempo risparmiato, se lo andiamo a sommare, ovvero sia se XOR mi fa un task e quel task XOR ci mette un minuto, mentre il mio analista ce ne mette undici, quel task io vado a risparmiare dieci minuti. Sommandoli ho praticamente lo stesso orario di lavoro che avrei dal, lo stesso numero di analisti che utilizziamo al nostro interno. Che cos'è Cortex? Quindi dal punto di vista dell'approccio che abbiamo. Noi vogliamo andare a raccogliere, come abbiamo visto nel nostro esempio all'interno del nostro SOC, tutti quelli che consideriamo good data. Cosa sono i good data? Sono le informazioni che l'analista in qualche maniera deve conoscere per poter comprendere un attacco informatico. Non vogliamo che sia lui però a in prima battuta analizzarle per capire che cosa significano, ma vogliamo che sia una parte di analytics. Quindi vogliamo una parte di machine learning che lavori su queste enorme mole di dati, perché non stiamo parlando solo degli alert che mi provengono dall'endpoint o dal firewall, ma stiamo parlando dei log che mi provengono da queste soluzioni. Quindi non ciò che quelle soluzioni considerano cattivo, ma ciò che quelle soluzioni considerano lecito e quindi fanno effettivamente transitare. Quindi voglio una soluzione di analytics che vada a lavorare su questo big data, la ricerca di che cosa? La ricerca della comprensione di quello che sta accadendo. Quindi per andare a individuare comportamenti anomali, per andare a individuare tutto quello che di anomalo esiste all'interno di questi dati. Automation. Voglio che nel momento in cui la parte analytics comprenda che c'è qualcosa di cattivo o perché gli è stato detto dalla soluzione puntuale o perché l'ha capito attraverso la sua parte di machine learning, che queste informazioni vengono il più possibile utilizzate in modo automatico per o presentarle all'analista nel modo migliore e poi vediamo come, oppure per essere effettivamente risolte in maniera più veloce. Questo ci permette di avere dei tempi di risposta negli incidenti veramente molto molto bassi. Siamo passati dalla gestione di segnalazioni di mail di phishing che impiegavano i nostri analisti decine e decine di minuti alla risoluzione degli stessi nell'arco di pochissimi decine di secondi, per così dire. Quindi la nostra filosofia qual è? Utilizzare comunque soluzioni per prevenire tutto quello che è possibile prevenire. Quindi la parte strata è finalizzata a quello, quindi la parte di Next Generation Farwell è finalizzata ad andare a bloccare tutto quello che è bloccabile. La parte prisma, stessa cosa nel mondo cloud. La parte cortex, stessa cosa nel mondo endpoint. Ma possiamo utilizzare l'insieme di queste tre strutture per prevenire tutto quello che è possibile prevenire e tenere traccia all'interno di quello che è il mondo XTR. In modo da ottenere che cosa? Da ottenere per l'analista la possibilità di andare a investigare sia quello che è stato prevenuto, perché non sempre c'è un bianco o nero. Nel momento in cui vado a bloccare qualcosa, magari devo andare a cercare di capire cosa è successo prima che effettivamente quell'attacco informatico è stato bloccato per capire da dove è entrato, se è successo qualcosa prima che effettivamente la mia tecnologia sia stata in grado di bloccarlo. O comunque per andare a investigare quello che magari non è stato effettivamente bloccato in alcun modo e che soltanto una delle n tecnologie che analizzo tramite XTR siano effettivamente state in grado di darmi qualche indizio sulla compromissione che sto subendo. E questo è, se vogliamo, quello di cui parleremo principalmente oggi, ovvero sia Cortex XDR. Cortex-OR, che è la soluzione di cui parlava Emanuele per la parte di automation, è, se vogliamo, l'orchestratore di tutto ciò, colui che va a decidere qual è la procedura che il mio analista deve andare a seguire nella risoluzione di quel particolare incidente, quindi se io decido che quell'incidente informatico di tipo phishing, di tipo ransomware, di tipo brute force deve essere gestito secondo a questa procedura, XOR è colui che mi segue, mi obbliga a seguire quella procedura e nei vari pezzettini, nei vari task, nei vari singoli task cercherà di automatizzare il più possibile da solo quei compiti in modo da alleggerire di molto il lavoro del mio analista. Come funziona XDR? Abbiamo già visto un pochettino l'architettura, rivediamola un po' con maggiore dettaglio. Quali sono i dati e quindi le soluzioni che io posso in qualche maniera utilizzare con Cortex XDR? XDR è una soluzione cloud, ovviamente, quindi quella nuvoletta sta lì non a caso, che raccoglie alert e log da che cosa? dai nostri next generation firewall e non solo, posso importare alert e log anche da firewall dei nostri competitor, posso importare anche qui alert e log dai nostri agent e con questo indico Cortex XDR agent e global protect, posso andare a prendere informazioni da quello che è Prisma Access piuttosto che i nostri firewall sul mondo VM e posso importare dati anche da terze parti. Cosa sono queste terze parti? Sono altre sonde di rete, abbiamo già detto altri firewall, sono sistemi di autenticazione come per esempio Active Directory e quant'altro, è un qualcosa che stiamo continuando a aumentare e accrescere il numero di log che siamo in grado di utilizzare sia per fare machine learning, sia per comunque metterli all'interno della soluzione e poter aiutare l'analista in quello che è la sua investigazione. Tutte queste informazioni sono utilizzabili, abbiamo detto, dalla parte di analytics, quindi dalla parte di machine learning, che cercherà di correlarle e comprendere se qualcosa è sfuggito alle soluzioni puntuali, perché magari è troppo lento nel tempo, oppure utilizza troppi vettori di ingresso per poter essere in qualche maniera compreso da una singola soluzione. Ma anche attraverso la possibilità di ricerca mette tutte queste informazioni a uso e servizio di quello che è l'analista. Quindi se vogliamo utilizzare delle sigle che il mercato utilizza nelle varie soluzioni puntuali, questo è quello che fa XDR. Emanuele prima aveva detto che una delle problematiche primarie che ha il mondo della security che è effettivamente molto, molto suddiviso su tantissimi vendor. Se noi pensiamo, per esempio, quali sono i vendor di... ma anche di stesso firewalling, piuttosto che quanti sono i vendor di database, quanti sono i vendor di soluzioni email, sono pochissime, sono veramente... stanno sulle dita di una o massimo due mani. Nel mondo della security, soprattutto nel mondo delle security operations, che può essere magari endpoint, piuttosto che NTA, NDR o UBA, esistono decine e decine e decine di diverse tecnologie, ognuna magari specializzata su uno di questi tasselli. Secondo noi, avere la possibilità di utilizzarli tutti insieme ha diversi vantaggi. E il vantaggio primario è sicuramente il risparmio a livello temporale dell'analista deve avere e quindi nella velocità di comprensione di un attacco informatico. Quindi se vado a vedere cosa c'è all'interno di Cortex XDR, abbiamo sicuramente capability di EPP, quindi il nostro XDR agent, che poi deriva, se vogliamo, da quello che era il mondo traps, ha soluzioni EPP intese come anti-malware, o comunque anche soluzioni tipicamente legate alle soluzioni legacy, chiamiamole così, quindi soluzioni personal firewall, device control, disk encryption e quant'altro, ha capability EDR, quindi ha capacità di raccogliere tutte queste informazioni, tutte le informazioni di ciò che accade effettivamente sull'endpoint, quali sono i processi che effettivamente sto utilizzando in questo momento, quali sono le connessioni, quale DLL, questo particolare processo, tutto quello che il mondo EDR può fare. In maniera speculare raccoglio che cosa? Non solo tutti gli alert che il mondo network mi fornisce, ma anche tutto quello che è legato a quello che accade sul network, quindi NDR. Noi lo chiamiamo NDR per differenziare non solo la parte di alert, ma anche la parte di log, quindi non è solo una soluzione NTA, quindi un qualcosa che è finalizzato a generarmi alert rispetto a anomalie di rete, ma è un qualcosa che oltre a fare questo mi registra anche tutto quello che accade sulla rete, perché poi voglio utilizzarle insieme alla parte DR, insieme alla parte EPP, insieme alla parte UBA per poter fare machine learning. In ultimo, ma non per ultimo, la parte UBA, quindi che cosa? Tutte quelle informazioni legate al comportamento degli utenti e anche, se vogliamo, alle autenticazioni che gli utenti fanno all'interno del proprio ambiente. Quindi se vado a nominare dei prodotti che andiamo a monitorare, noi potremmo, per esempio, oltre ad utilizzare il nostro Cortex XDR agent, utilizzare i nostri firewall, piuttosto che quelli di checkpoint o chi per lui, e la parte UBA andare a monitorare, per esempio, i log di Active Directory. Tutte queste informazioni possono essere analizzate insieme dal motore di machine learning per andare a individuare comportamenti anomali. Quindi, per fare un esempio grafico che spiega bene la situazione, se io mi limitassi alla parte di visibilità dell'endpoint, che cosa avrei? Avrei piena visibilità di quello che accade all'interno di un sistema. Quindi, se c'è un malware che sta chiamando DLL, che sta cifrando il mio disco, avrei un alert, ma potrei sì fare isolation, potrei fare una parte di remediation, di blacklisting dei processi, ma riuscendo a correlare queste informazioni con il mondo network, ho una visibilità enorme, sia da dove arriva, sia da dove va. Quindi, sia da dove effettivamente è arrivato quel guaio, sia come si è propagato all'interno della mia azienda, non solo su un singolo PC, ma anche tramite movimenti laterali o quant'altro, e anche magari come è uscito. A prescindere se questo sia avvenuto all'interno della mia azienda, nel cloud o nel singolo endpoint. In un'unica vista che permette all'analista di avere piena visibilità, con un solo cruscotto, ma anche in maniera molto, molto user-friendly, lo vedremo dopo, di quello che è la problematica. Questa è, come la chiamo io, la roadmap al contrario. Durante eventi di questo genere, ovviamente non possiamo presentare la Rostan roadmap, ma possiamo presentare esattamente il contrario. Cosa è avvenuto nell'ultimo anno? Quali sono le novità e con che velocità abbiamo rilasciato nuove funzionalità sul mondo Cortex XDR? Come vedete, è estremamente compresso e non sono neanche tutte, sono sicuramente quelle più importanti. Attualmente siamo alla 2.6, 5. Comunque cambia relativamente poco. Nella 2.6 abbiamo introdotto funzionalità estremamente interessanti per facilitare la vita all'analista, come per esempio la possibilità di utilizzare XDR per fare, XQL, scusate, per fare query all'interno del database di XDR. Troppe sigle, come sempre, gli americani sono, siamo terrificanti con le sigle che utilizziamo. Ma abbiamo introdotto anche introdotto funzionalità estremamente estremamente interessanti per facilitare la vita nella fase di remediation piuttosto che nella fase di containment dell'attacco informale. Per esempio... Daniele, non ti sentiamo. Sì, non lo sentiamo. Eccolo qua, tornato. Ah, ecco. Daniele? Mi sentite? Adesso sì, devi ripetere. Ripeti gli ultimi 15 secondi. Scusate, ho avuto un problema di rete. Che devi fare? Purtroppo, lavorando da casa, abbiamo degli sla che sono quelli che sono. Questa è... Non so a che punto sei rimasti, riparto un attimo da questa slide. Quali sono le principali novità che abbiamo rilasciato nell'ultimo anno? Sono soprattutto... O meglio, sono in realtà funzionalità finalizzate sia aumentare il livello di protezione sull'end point, ma anche per facilitare la vita all'analista. In che fasi? Sia in fase di investigazione, sia in fase di contenimento o remediation di un attacco, che poi è quello lo scopo. Ma a me non interessa tanto avere funzionalità di EPP, EDR, NTA, UBA, INDR e quant'altro. A me interessa fare in modo che tutto questo che io raccolgo da questi ambienti sia in qualche maniera facilmente fruibile all'analista. Ma non solo per fargli comprendere quello che effettivamente accade, ma per farlo reagire nel minore tempo possibile, no? Quindi se nel momento in cui io ricevo un attacco voglio che questo sia protetto il più possibile, quindi che siano il più possibile diminuiti i numeri di attacco che in qualche maniera riescono a superare le mie difese perimetrali e qui abbiamo tutte le funzionalità di anti-malware, anti-exploitation e quant'altro. Voglio che nel momento in cui l'attacco ha in qualche maniera successo ci sia possibile di... ci sia possibilità automaticamente di andare a contestualizzare quello che è passato, quindi integrazioni con la parte di Trade Intelligence. Voglio che tutto quello che effettivamente è all'interno di un incidente, a livello di asset, di artifacts, sia automaticamente analizzato dalla parte Wi-Fi piuttosto che la parte Autofocus, quindi contestualizzata. Voglio fare in modo che in qualche maniera io possa bloccare un attacco che sta propagandosi all'interno del mio mondo, quindi posso utilizzare quello che è BIOC to BTP. Che cos'è BIOC? BIOC per chi è già nostro cliente sul mondo proper endpoint, sono quelle rules che noi possiamo utilizzare all'interno della piattaforma, sia create da noi, sia create da voi, per andare a individuare dei comportamenti. Quindi se io gli dico che un qualsiasi processo che si esegua dal Recycle Bin voglio che generi un alert, quello è un BIOC. Se io voglio dirgli che qualsiasi Excel che generi un PowerShell che vada a cancellare le shadow copy sia un comportamento interessante, quello è un BIOC. Quello che io posso fare dalla 2.5 in poi è trasformare questi BIOC che ovviamente avvengono nel back-end, perché sono qualcosa che vengono utilizzate analizzando che cosa, tutti i dati che le varie soluzioni ricevono, in regole di blocco. Quindi queste sono chiamate BTP. Quindi posso andare a dire, per esempio, se scopro che all'interno della mia azienda in questo momento un attacco sta sfruttando come comportamento quello di eseguire un PowerShell rinominato all'interno del Recycle Bin potrei creare un BIOC che non solo individua questo, ma poi trasformarlo in un BTP che lo blocchi del tutto. Quindi avere possibilità di aumentare notevolmente la mia efficacia nel contenimento di quello che è un attacco informatico. Poi dovrò fare remediation. Remediation lo posso fare in diversi modi. Anche qui abbiamo introdotto sia una fase di auto-remediation, quindi la possibilità che lo strumento ha di analizzare tutto quello che è accaduto all'interno dell'attacco. Qui non stiamo parlando di un know-how teorico, quindi so che quel malware è quell'hash e andrò a cancellare quell'hash. No, io vado a vedere effettivamente tutto quello che l'attaccante ha fatto a livello di cancellazioni di file, creazioni di processi e quant'altro e automaticamente lo strumento mi darà un piano di remediation e me lo potrà anche applicare in automatico. Piuttosto che andare a eseguire script sui vari end point. Anche questo è estremamente interessante. Non so se avete mai avuto la necessità durante la gestione di un centro di sicurezza di andare a fare la stessa attività su tutti i sistemi compromessi. Quindi devo andare su una macchina e andare a cancellare un processo e andare a rimuovere uno schedule task e lo devo fare su una 10N sistemi. Con soluzioni EPP tradizionali possono sicuramente andare a utilizzare il live terminal per farlo macchina per macchina ma questo è estremamente noioso. Se come in questo caso vado a utilizzare degli script per automatizzare questo task ed eseguirlo in simultanea su tutti i miei sistemi vada a sé che ho un vantaggio non solo temporale ma anche di efficacia decisamente interessante. Vi sentite sì? Sì. Sì sì tutto bene. Abbiamo introdotto con la 2.5 anche un nuovo modulo che è la parte di Host Insight. Cosa c'è all'interno di Host Insight? Poi lo vediamo molto bene nella demo quindi voglio andare un po' veloce. All'interno di Host Insight ci sono principalmente tre cababili. La prima è la possibilità di fare search and destroy di file all'interno dei miei dei miei endpoint quindi se scopro che un particolare oggetto a livello di hash a livello di nome è malevolo posso automaticamente dire alla piattaforma di andarla a cercare su tutti i sistemi possibili immaginabili e andarlo a distruggere con un semplice click effettivamente due minuti di tempo. La parte di Host Inventory io vado a raccogliere tutte le informazioni dell'endpoint a livello di utenti a livello di servizi di autorun di dischi di tutto quello che di tutto quello che poi vedremo durante la demo quindi vado a raccogliere tutte le informazioni legate a ogni singolo endpoint e va bene ma soprattutto vado a fornire all'analista una view temporale di questo quindi se durante un attacco io penso che in qualche maniera l'attaccante si sia messo persistente attraverso un schedule task posso benissimo andare a chiedere allo strumento fammi vedere qual è la configurazione di schedule task oggi e fammela vedere come era ieri come era una settimana fa e quindi avere immediata visibilità dei cambiamenti di tutto quello che ho raccolto con la parte di Host InSight parte di vulnerability management posso andare a raccogliere che cosa? Tutte le informazioni legate a le patch di sistema piuttosto che gli applicativi che esistono all'interno del mio ambiente posso andare con la mia intelligence a conoscere quali sono i vari CVE esistenti e andare a mappare questi CVE con le applicazioni o con le patch mancanti per quanto riguarda per esempio il mondo Microsoft e quindi avere la possibilità di fornire direttamente all'analista le informazioni legate a quali sono i CVE presenti nel mio mondo un'altra funzionalità interessante che abbiamo introdotto è la possibilità che ha tutto XDR di andare a individuare quelli che sono device non protetti dall'agent stesso e non lo facciamo soltanto con la componente agent quindi se un agent vede una chiamata da un PC che non vede protetto dall'XDR agent sul console apparirà questo IP nuovo come IP non protetto ma anche da da quello che è il mondo firewall quindi se io ho una rete monitorata con un firewall questo firewall vedrà quali sono le connettività da IP a IP e queste informazioni saranno utilizzate da XDR per andare anche qui a costruirsi una mappa di quelli che sono le device all'interno della mia azienda e poi andare a capire quali di questi IP hanno o non hanno l'agent a bordo oppure posso fare attraverso un network mapper quindi scansioni attive attraverso un nostro broker una nostra virtual machine per andare a analizzare subnet e subnet alla ricerca di nuovi IP che compaiono improvvisamente all'interno della mia azienda questo mi permette di avere che cosa piena visibilità di eventuali nuove macchine che compaiono all'interno delle mie rete o comunque di IP che in qualche maniera sono stati dimenticati e non protetti e che quindi possono essere fonte di di problemi in futuro remediation abbiamo già già accennato prima ma è la possibilità automaticamente della piattaforma di andare ad analizzare un incidente e ricostruirsi quello che è stato il ciclo di vita dell'incidente quindi non è legato soltanto all'intelligence di un codice malevolo ma come effettivamente questo codice malevolo è stato utilizzato quindi io posso andare a vedere quello che è accaduto su uno end point e automaticamente lo strumento mi presenterà un remediation plan che potrà andare a cancellare file a cancellare a chillare processi a fare un restore di file a cancellare modifiche a livello di registro e quant'altro e questo mi permette di ricostruire uno stato di un end point all'ostituzione precedente all'esecuzione di un codice malevolo o anche se vogliamo all'esecuzione o alla compromissione iniziale questa è la possibilità di andare a trasformare BIOC in BTP quindi la possibilità di creare nuove regole di detection e questo effettivamente è un differenziante molto molto importante sia verso i nostri competitor ma anche nell'utilizzo di tutti i giorni è un qualcosa che noi vediamo utilizzato molto molto dalla parte di Analytics per andare a contenere i più possibili attacchi che si stanno propagando in questo momento all'interno di un'infrastruttura perché con i BIOC posso praticamente creare una regola per individuare più o meno qualsiasi comportamento esista e non necessariamente legato a un codice malevolo ma a un comportamento come abbiamo visto prima con l'esempio di Excel che chiama PowerShell e io posso trasformare questa informazione in una regola di prevention sul mio sul mio agent e quindi riuscire in qualche maniera non dico tanto a aumentare il livello di prevention che l'agent fa perché quello lo faccio con tutti gli altri sistemi ma andare a gestire e quindi a bloccare la propagazione di un qualcosa che in questo momento sta avvenendo all'interno della mia rete Daniele c'è una domanda se siete tutti d'accordo io tolgo il blocco del del mute ok così eventualmente si possono ammutare i nostri ospiti e fare domande c'è una domanda specifica ti fermo in questo punto così decidi se parla ora o più avanti perché va forse chiarito un po' meglio viene chiesto per bloccare il phishing è indispensabile avere Cortex-XOR o c'è qualcosa che fa anche Cortex-XDR forse è meglio chiarire cosa fa il XOR allora come vado a bloccare il phishing spendiamoci due minuti come gestisco il phishing all'interno della mia azienda il phishing lo posso gestire tipicamente lo si gestisce con un processo in cui c'è un momento in cui il SOC o comunque il security operation capisce che c'è una problematica dei phishing da dove gli arriva questo input questo input gli arriva o da un collega che gli dice guarda ho ricevuto questa mail e mi sembra strana oppure da una soluzione di anti malware difficile da una soluzione di anti anti spam che in qualche maniera gli dice guarda questa mail non è spam non è malware ma è comunque anomala e quindi l'analista o comunque il security operation viene coinvolto per fare un'analisi supplementare a quello che è una mail anomala in entrambi i casi è una mail anomala nel momento in cui ricevo una mail anomala che ci devo fare l'analista che cosa farà la comincerà a analizzare che vuol dire analizzare vuol dire prenderla aprirla vedere qual è il look and feel cosa effettivamente appare all'utente nel momento in cui la apre quali sono gli indicatori all'interno di quella mail quindi quali sono gli leader quali sono da che mail server arriva se questo mail server è autenticato in maniera corretta spf dkim di mark chi per lui piuttosto che che cosa contiene quindi se ci sono url se ci sono file se ci sono qualcosa di di cliccabile mettiamola così dopodiché l'analista che deve fare prendere tutto quello che ha raccolto e andarlo a cercare a livello di thread intelligence quindi tutti gli leader gli IP andare a vedere da spam house o chi per lui tutti gli oggetti andare a cercare su autofocus virus total o chi per lui tutto quello che è detonabile andarlo a detonare all'interno delle sandbox e chi per lui dopodiché ha tutte le informazioni per decidere se quella mail è malevola nel senso di una mail di phishing o non è una mail di phishing ok a quel punto lui deciderà se quella mail deve essere trattata secondo un incidente o se è semplicemente una segnalazione falsa quindi un falso positivo e può tranquillamente informare o la piattaforma che gli ha la segnalata o il collega che gli ha la segnalata di stare tranquillo siamo tutti in accordo più o meno su questa procedura quindi se questa è la procedura che all'interno di un'azienda viene utilizzata per la gestione di un phishing lo strumento che lo fa è un essere umano ora però abbiamo visto che ci sono n task all'interno di questa procedura e mi sono fermato solo la fase di detection non voglio andare sulla fase di remediation se no non la finiamo più però posso pensarla speculare quindi tutte queste task che io faccio alcuni sono senzienti altri un po' meno senziente cos'è? decidere in base a tutte le informazioni raccolte se quella mail è buona o cattiva non senziente che cos'è? raccogliere tutte le informazioni quindi XOR nello specifico è colui che è il mio fratellino minore cui io posso andare a delegare i compiti più noiosi e quindi gli dirò senti fai tutto quello che sai fare da solo ovvero sia raccogli tutte le informazioni che ti ho detto di raccogliere e questo all'interno di XOR è quello che noi chiamiamo playbook quando hai finito mi chiami e io lo guardo e ti dico se questo è buono o questo è cattivo quindi per rispondere alla domanda le problematiche di phishing le gestisce security operation non le gestisce un prodotto security operation può farlo tutto a mano e ci metterà un'ora o può utilizzare soluzioni come XOR per gestirlo in pochi pochi minuti ho risposto alla domanda? Io io penso di sì se vuoi andare avanti mi sembra che se tu abbia descritto molto bene perfetto vado vado magari un po' più veloce perché vorrei farvi vedere più o meno le stesse cose anche in GUI possibilità di utilizzare query XQL all'interno della piattaforma e questo mi permette di fare che cosa? Non solo di crearmi delle bellissime dashboard con tutte le informazioni che voglio e il riassunto delle informazioni che voglio ma anche di utilizzare la stessa tecnologia per andare a cercare cose strane all'interno di quello che è tutti i dati che ho raccolto quindi voglio capire quali sono i top 10 utenti che hanno fallito maggiormente le login da cosa lo vedo? Lo vedo dai firewall che hanno questa informazione lo vedo da Active Directory che ha questa informazione lo vedo dall'agent che magari ha questa informazione a me interessa poco da dove lo vedo voglio raccogliere queste informazioni quindi tramite XQL riesco a avere anche delle viste e delle query in quest'ottica ai fini di fare che cosa? Ai fini di fare quello che un security analyst dovrebbe fare ovvero sia non solo gestire incidenti ma anche comprendere incidenti e fare anche magari dell'hunting stessa cosa può essere applicato a movimenti laterali exfiltration malware evasion tutto quello che vogliamo quindi all'interno di questo che è il mio mondo XDR visto che ho raccolto tutte le informazioni che un analista ha bisogno per comprendere un attacco voglio anche uno strumento che lo faciliti nella ricerca di queste informazioni e questo è fondamentale nella nostra vision noi non vogliamo essere soltanto una soluzione che fa EPP più EDR più NTA più quello che volete voi ma vogliamo essere una soluzione che fa risparmiare tempo e quindi aumenta l'efficacia delle mie risorse interne ok questo è un esempio di quello che noi per esempio scusate mi sono perso un attimo ok questo è quello che dicevamo prima sostanzialmente qual è la problematica legata al mondo al mondo degli dei security operation non sempre è possibile fare tutto nella maniera più veloce possibile proprio perché o ho tante informazioni legate fra di loro o perché in qualche maniera i task sono ripetitivi sono noiosi dipendono dall'orario in cui avvengono quindi se io vado a gestire un incidente di sicurezza il venerdì pomeriggio alle 5 lo gestirò in maniera molto molto diversa rispetto al martedì mattina alle 10 perché perché non ne posso più e quindi c'è anche una stanchezza umana che deve essere in qualche maniera considerata quindi tutto quello che abbiamo visto fino adesso deve in qualche maniera andare a facilitare il compito se questo non è possibile è possibile utilizzare dei fornitori di servizi MDR per fare questo insieme a me questa è un'altra cosa che vediamo spesso e volentieri quindi la possibilità di affiancare quello che è la tecnologia a dei servizi che può per esempio in questo caso offrire sicuramente NGS per la co-gestione di quelli che sono non solo le piattaforme ma anche eventuali fasi di investigazioni o o quant'altro quanto efficacia ciò non toglie comunque che se andiamo se ritorniamo velocemente su quelle che sono le funzionalità banali o come funzionalità base di questa soluzione dobbiamo essere sicuramente best breed come si dice quindi dobbiamo avere la migliore tecnologia per quanto riguarda EPP la migliore tecnologia per quanto riguarda EDR e quant'altro questo è un qualcosa a cui non vogliamo ovviamente rinunciare vogliamo essere anche nelle varie singole sigle la migliore tecnologia disponibile sul mercato poi l'insieme sicuramente sarà la maggiore della somma delle singole delle singole cose ma vogliamo sicuramente essere la soluzione che va a togliere maggior rumore di fondo se mi posso esprimere rispetto al mercato se voi andate a cercare Mitre APT29 Results Mitre che cos'è? è un'azienda che fa tante cose tra cui ha fatto due e sta per rilasciare la terza test secondo me fatta in maniera migliore in assoluto su quella che è l'efficacia di queste soluzioni di sicurezza in base a che cosa? In base a N sistemi loro hanno replicato quello che era un modus operandi dell'APT29 hanno visto quale delle varie tecnologie era in grado di individuarla ora non esiste un magic quadrant perché le informazioni ottenute possono essere analizzate in maniera molto molto differente però esistono due chiavi di lettura la prima quanto effettivamente mi ha protetto quella soluzione puntuale out of the box quindi senza alcuna configurazione da parte del vendor e noi abbiamo avuto oltre il 90% di successo quindi tutto quello che è accaduto l'abbiamo visto bloccato almeno il 90% delle volte e quindi questo ci pone sicuramente in prima posizione a pari merito con Trend Micro la seconda chiave di lettura è quanto il vendor ha dovuto lavorare in un secondo momento per riuscire a migliorare se stesso quindi in realtà il mitre cosa ha fatto prima ha fatto un giro a configurazione di default mettiamola così e poi ha fatto un secondo giro lasciando tempo ai vendor di cambiare tutto quello che volessero cambiare tenendo traccia però dei cambiamenti fatti anche qui se vado a lavorare su sui risultati ottenuti nella prima round piuttosto che nel secondo round vedrò che noi abbiamo dovuto cambiare esclusivamente un cambiamento un change di configurazione mentre tutte le altre soluzioni hanno cambiato decine di change di configurazione o change di detection e poi anche qui il mitre è stato bravo a differenziare le due cose è troppo troppo complesso per parlarne il giro di un minuto se avete voglia possiamo magari organizzare una call separata per andare a approfondire quelli che sono questi risultati però anche questa è una chiave di lettura estremamente estremamente interessante è una fonte di informazioni che mi mi aiuta a comprendere forse qual è la soluzione più adatta più adatta a me quindi a livello di valore qual è lo scopo del gioco di tutto quello che abbiamo detto fino adesso non solo andare a ridurre il rischio ma come vado a ridurre il rischio vado a ridurre il rischio anche diminuendo la finestra temporale in cui il rischio effettivamente esiste ovvero sia nel momento in cui io in qualche maniera subisco un attacco quanto tempo ci metto a comprenderlo quanto tempo ci metto a gestirlo e quanto tempo ci metto a rimediarlo voglio anche andare a ridurre quelle che sono infinito di alert che mi provengono dalle varie tecnologie non voglio andare a gestire dieci alert della parte firewall dieci alert d'arte UBA voglio gestire tutto tutto insieme e questo mi permette di utilizzare al meglio quelli che sono anche l'investimento l'investimento fatto questa slide della Marla ai 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 eccoti e questo è particolarmente interessante a che punto mi avete perso no va bene cioè nel senso non ti abbiamo perso più di tanto questa slide qua è fondamentale perché sottolinea il fatto che siamo siamo presenti nel portale Agid sia come Cortex XDR sia come Cortex XOR abbiamo fatto qualche mese fa abbiamo fatto parte della diciamo della solidarietà digitale che era appunto un un evento come si dice una un contributo del del ministro dell'innovazione tecnologica e poi le nostre tecnologie vengono utilizzate anche dalla dalla CertPA specialmente autofocus e Cortex XOR Daniele ti sei ripresa la rete tutte le nostre soluzioni cloud spero di sì mi sentite mi sentite ok dunque tutte le nostre soluzioni cloud sono certificate a livello di Agid quindi siamo in qualche maniera ok io andrei direttamente in se la banda mi io volevo prevenire un po' di di domande che mi mi aspetto vengano fatte magari dopo sulla tipologia di dati qua se vuoi poi approfondire nella demo vengono trattati verso i sistemi di intelligence nel cloud ok questa che vedete è la console di XDR quindi io mi connetto a quello che è un tenant nel cloud e ho piena visibilità di che cosa di tutto quello che accade a livello di del mio mondo sia per quanto riguarda gli alert che provengono da scusate che sto caricando per quanto riguarda gli alert che provengono non solo dalla componente agent quindi tutto quello che l'agent in qualche maniera ha riconosciuto come malevolo ma anche dal mondo firewall ma anche se vogliamo da tutto quello che viene generato dalla parte analytics partendo da che cosa in questo caso dalle informazioni che io ho raccolto come buone e cattive ma soprattutto buone direi sia dalla parte firewall sia dalla parte agent e quindi ripeto quali sono le informazioni che io raccolgo dai firewall tutti i log tutto quindi qualsiasi connessione avvenga viene comunque tracciata e io utilizzo quella come fonte di informazione per la mia parte analytics sulla parte agent cosa viene tracciato anche qui tutto connessioni a livello di endpoint start di processi gestione dei file scrittura cancellazione chiavi di registro dll e quant'altro posso anche utilizzare quello che brevemente abbiamo detto come la parte bioc e ioc per andarmi a generare alert legati al comportamento che cos'è un bioc lo vediamo qua il bioc per esempio è la possibilità che ha lo strumento di andare a raccogliere o comunque a gestire a ricreare un comportamento ora mi spiace che siamo capitati un giorno in cui ho qualche problemino di rete per esempio questa che è stata creata da mio collega questa che è stata creata da Palo Alto non fare altro che dire se esiste un processo in cui sta facendo execution e la command line è questa allora è un comportamento riconducibile a un tipo di tampering che non è altro che il processo ha chiesto la cancellazione delle shadow copy quindi a me non interessa capire se quel processo è lecito o è un malware a me interessa capire che ha fatto questa cosa e questo è un bioc quindi anche queste informazioni possono essere utilizzate per andare a arricchire quella che è il mio database di alert all'interno della piattaforma poi con questi alert che cosa ci faccio con questi alert in qualche maniera li voglio aggregare all'interno di quello che è un incidente di sicurezza quindi se prendo questo incidente vedrò che all'interno di questo incidente ho circa 200 alert che sono stati automaticamente correlati quindi dimentichiamo gli alert sotto e pensiamo a quello che un analista deve fare tutti i giorni ho una segnalazione da parte di questa piattaforma mi fa piacere che lo devo fare una volta e non 200 però mi cambia poco voglio capire se questo quali sono le prime domande che mi faccio la prima domanda che mi faccio in assoluto è se questo è un falso positivo o no non è utile nasconderci dietro un dito come faccio a capire se un incidente di sicurezza è un falso positivo di solito prendo l'hash del file lo vado a cercare dentro virus total e vedo se gli altri mi dicono che è un qualcosa di conosciuto o un qualcosa di sconosciuto se è conosciuto è sicuramente malevolo se no chi lo sa questo è un qualcosa che per esempio automaticamente avviene a livello della piattaforma non solo con virus total ma anche con la soluzione di wifi quindi con la nostra sandbox e anche con la soluzione autofocus quindi la nostra parte di intelligence quindi io automaticamente ho già queste informazioni che mi vengono a console quindi come analista devo rispondere questo è un falso positivo o no direi di no perché ho due oggetti che sono malevoli uno tutti e due sono stati riconosciuti malevoli dalla parte wifi uno è palesemente malevolo anche a livello di virus total l'altro non è noto a virus total che mi fa preoccupare ancora di più perché comunque vuol dire che magari qualcosa è relativamente nuovo e la parte di autofocus mi dà comunque alcune informazioni legate a che cos'è questo oggetto tra cui mi dice che questo in realtà è un quasar rat quindi non devo neanche andarmi a capire a capire qual è la famiglia di malware che sto affrontando e ha la caratteristica di creare dei schedule task per rendersi persistente la seconda domanda che mi pongo è ha avuto successo o non ha avuto successo direi di sì perché se questo è il comportamento di questo codice malevolo e mi vado a trovare schedule task tra i processi eseguiti durante questo attacco vado a sé che l'attacco ha avuto successo terza domanda che mi pongo è se effettivamente c'è stato movimento erotorale quindi non solo è stato compromesso il primo sistema ma l'attacco è andato su altri sistemi e direi di sì perché a parte a livello di key asset ho sia le informazioni sugli endpoint compromessi sia le credenziali utilizzate per comprometterli e se voglio andare un po' più in dettaglio vado a vedere che processi legati all'esecuzione di oggetti da remoto esistono e quindi è plausibile il fatto che l'attaccante sta effettivamente spostandosi da una parte all'altra e questo senza andare a vedere il livello di dettaglio dell'attacco se voglio farlo nessuno me lo vieta prendo per esempio questo incidente questo alert specifico e voglio analizzarlo per cercare di capire se effettivamente che cosa che cosa è accaduto mentre carica ne apro anche un altro che è il primo in assoluto voglio vedere il primo in assoluto che cosa è accaduto e vediamo se riusciamo a farlo quindi questi incidenti sono stati tutti trovati dalla parte di MTA che è managed threat hunting questa 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 soluzione utilizza il manager threat hunting come fonte di informazione in più che cos'è il manager threat hunting il manager threat hunting è una nostra soluzione un nostro servizio on top a quello che è XTR che permette a noi quindi a noi come come Palo Alto Networks di andare a investigare ulteriormente quello che la la piattaforma ha registrato come buono alla ricerca di cose cose non buone pensiamolo come una parte di machine learning senza senza artificial intelligence quindi con intelligenza umana come funziona abbiamo un gruppo di persone che attraverso gli unit 42 quindi la parte di intelligence attraverso eh il dark web o quello che vogliamo noi raccoglie informazioni su modus operandi del di quello che che effettivamente è utilizzato là fuori se trova traccia di questo effettivamente segnala alla piattaforma ma anche al cliente che di quanto è accaduto per esempio nell'altro vendor che è stato compromesso in questi giorni noi cosa abbiamo fatto abbiamo cercato traccia di tutto quello che quel vendor si era fatto eh e sfiltrare per andare a capire se traccia di quelle di quei tool o dell'utilizzo di quei tool esisteva all'interno dei nostri i nostri clienti eh se questo fosse stato trovato o quando questo è stato trovato il cliente stesso è stato informato sul eh su cosa è stato trovato sull'impatto che può avere quel particolare tool o sull'impatto che quel tool ha effettivamente avuto ok quindi se io vado a vedere questo questo attacco quindi questo è il malware iniziale per così dire eh questo Avenger eh ho informazioni legate a effettivamente eh come è stato eseguito quali sono gli alert che questo particolare eh processo ha fatto scattare qui chiaramente è stato messo tutto in modalità detection per avere eh per fare in modo che l'attacco avesse effettivamente successo e quindi riuscire a avere più possibile informazioni da presentarvi durante questa questa demo per così dire eh posso andare a vedere da dove viene questo questo guaio se questo guaio ha ulteriori figli padri o quant'altro posso chiedergli se questo 7zip esiste su altri sistemi con lo stesso hash quanto è durato eh il processo se è ancora attivo se non è attivo e questo per qualsiasi processo io io voglia no? Quindi quali sono i sistemi dove ho effettivamente questo questo particolare file visto che le informazioni vengono raccolte non voglio che sia l'analista poi doversela andare a cercare anche via xql ma voglio che l'informazione avvenga sia presentata automaticamente al all'analista stesso in modo da facilitargli il compito è ancora in uso è ancora questo processo sta ancora girando sì o no? no è girato per pochi secondi e lo vedo qua eh questa è eh legata a un alert che mi proviene dal mondo firewall quindi effettivamente questo oggetto ha fatto una chiamata di callback individuata correttamente dal firewall verso 222 199 quindi ho anche informazioni su quello che è il il mio comma in controllo legato a questo attacco fino a scendere giù in dettaglio andare adesso non vi voglio tediare ma qui ho piena visibilità di tutto quello che l'analista ha fatto e eseguito e il perché poi per esempio quelle credenziali mi sono state segnalate come come malevole quindi sono state eh compromesse mi sono state segnalate come compromesse perché per spostarsi da una macchina all'altra sono state effettivamente effettivamente utilizzate ok posso poi fare altre cose perché se io torno sulla parte di eh di incidente voglio vedere quello che è la mia il mio asset view posso utilizzare la soluzione di Host Insight per raccogliere informazioni legate a per esempio quali sono gli utenti sulla macchina piuttosto che quali sono eh i dischi su questa particolare macchina ma anche su cose un più interessanti per esempio quali sono gli aturandi di questa particolare macchina e posso anche chiedergli magari di andarli a paragonare immediatamente con quelle legate a una specifica data e poi andare a dire ok non mi interessa però quelle che sono identiche quindi avere visibilità eventuale soltanto di quelle che sono cambiate nel tempo e quando eventualmente sono sono cambiate nel tempo ok quindi so che questo è stato rimosso ma esisteva il lo tempore e via dicendo stessa cosa per quanto riguarda i servizi e questo è estremamente estremamente potente qual è il fine ultimo il fine ultimo anche qui è quello di andare eh il più possibile a facilitarmi la vita quindi il più possibile a accelerare quella che è la mia la mia investigazione stessa cosa la posso fare per la parte di network connection quindi voglio dirgli voglio vedere quali sono le destination country no interessa poco destination IP basandosi sul destination process magari è un qualcosa che mi interessa un po' di più quindi voglio andare a vedere effettivamente questi IP con chi sta parlando dove sono questi IP eh quali sono i processi in ascolto dall'altra parte e e via dicendo e questo anche questo è estremamente estremamente potente mi permette di facilitare eh accelerare la la fase di analisi senza dover andare su n soluzioni eh di volta in volta altre cose da farvi vedere ce ne sarebbero tantissime vediamo le principali eh sulla fase di ehm di BIOC posso andarne a creare quante voglio quindi se io vado effettivamente sulla parte di BIOC posso andarmi a creare questo ambiente non ho privilegi ma lo facciamo sul mio posso andarmi a creare BIOC come meglio credo quindi se io ho un comportamento che magari eh là fuori è considerato lecito ma io al mio interno voglio andare a monitorare o eventualmente andare a bloccare posso crearmi quelle che sono le mie regole di BIOC per esempio posso dirgli che se esiste un processo che si chiama daniele.exe e il papà è papà di daniele punto exe voglio eh in qualche maniera essere allertato per esempio questa è una fase di evasion questa è una severità alta è legata alla tecnica di data offuscation in modo poi eventualmente da poter utilizzare come come informazione eh questo si traduce in un BIOC se io poi voglio volessi in qualche maniera andare a bloccare questo BIOC mi basterebbe andarlo ad aggiungere in quella che è una restriction policy da questo momento in poi delle signature eh customizzabili yes l'utilizzo qual è? immaginate di avere in questo momento un un malware che vi sta cifrando i dischi e scoprite che questo malware eh alla fine dei giochi è un powershell che si esegue da recycle bin e per qualsiasi motivo non venga riconosciuto da eh dalla soluzione agent che 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 abbiamo voglio andarlo a contenere in qualche maniera come faccio? creo un BIOC del genere lo applico a una regola di di restriction e ho finito punto se scopro che effettivamente sta utilizzando 7zip per cifrarmi documenti con password e poi cancellarli in realtà non c'è malware inutilizzo no? sento semplicemente degli script però posso utilizzare il BIOC per andare a mappare questo questo comportamento e andare eventualmente a bloccarlo ok? altra cosa che vorrei farvi vedere e poi magari se ci sono domande interrompetemi pure è la parte di remediation quindi se noi andiamo a prendere anche qui prendiamo sul mio ambiente che è interessante se io vado a vedere il mio ambiente mi sono creato un stupidissimo alert che è questo in cui ho un qualcosa che si sta scaricando del malware in questo caso io ho un alert solo dalla componente next generation firewall quindi non ho nessun alert sulla componente endpoint l'endpoint non ha visto nulla perché l'ho configurato in modo che non possa vedere nulla a me interessa fare che cosa? nel momento in cui ho un firewall che mi segnala una chiamata di callback o un malware da scaricato a me interessa capire effettivamente qual è il processo che lo sta facendo se io gli chiedo qual è il processo che lo sta facendo la risposta è immediata perché anche se ho un alert che mi proviene solo dal mondo firewall riesco a fare lo stitch dell'informazione sulle informazioni che mi provengono dal mio endpoint che è con agent e so immediatamente qual è il processo che sta effettivamente facendo questa attività quindi so che non è un browser ma è un curl e il curl mi interessa capire effettivamente perché è qui se io vado a chiedere la remediation di questo particolare incidente vedrò effettivamente tutto il piano di remediation della cancellazione di questo curl che poi è stato è stato schedulato quindi il kill del processo e quant'altro la cancellazione di un file piuttosto che la cancellazione di una chiave di registro questo se mi limito all'alert se vado sull'incidente avrò la remediation non di quel singolo alert ma di tutto tutti gli alert all'interno dell'incidente stesso eccolo quindi in questo caso io posso andare a vedere cosa che cosa è accaduto all'interno di questo particolare incidente quindi tutti gli alert legati all'incidente stesso posso andare a vedere cosa è in grado di fare la piattaforma in automatico perché magari il file esiste ancora e quindi lo può tranquillamente cancellare piuttosto che cosa non è in grado di fare quindi mi viene detto di doverlo fare perché il file non esiste più o non sta più nelle shadow copy e via dicendo nel momento in cui ho deciso quello che è il mio piano di remediation e quindi tutti i task che effettivamente sono stati cambiati da questo attacco e che devono essere fatti potrò fare remediation e effettivamente avverrà tutto in automatico su un endpoint su 10 endpoint su tutti gli endpoint non cambia assolutamente nulla pensate a anche qui quanto tempo vado effettivamente a recuperare se ci sono domande non sto moritorando la chat in questo momento ma che mi è stata fatta che queste funzionalità di analisi approfondita implicano l'utilizzo del data collection dei client verso cloud quindi data lake questa è la domanda e quindi ti chiederei anche di siccome conosco l'origine della cosa è di dichiarire che il cortex non copia in modo becero il traffico cioè non c'è una copia di traffico verso cloud ma un'analisi di alcune particolari parti o PAs ok quindi che allora vediamo che cosa ho necessità di andare a raccogliere e quindi qual è il licensing che devo avere che poi penso la domanda sia interpretabile anche in questa in quest'ottica per avere tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso il cliente che ha fatto la domanda non ha la parte di data lake ma sta immaginando di acquistarla e quindi vuole avere qualche informazione sicuramente di più esatto chiaro chiaro quindi a livello di licensing noi abbiamo tre diverse licenze queste licenze si portano dietro diverse capability quindi tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso è un qualcosa ottenibile chiaramente con tutto quello che è applicabile all'interno delle piattaforme e per tutto quello che è applicabile io intendo tre licenze principali la parte xdr pro per endpoint che include ovviamente le stesse capabilità della prevent la parte di cortex pro per terabyte quindi la possibilità e poi vediamo di fare che cosa e la parte di host insight ok quindi se io come cliente ho soltanto la parte di cortex xdr prevent quali sono le capabilità che ho e cosa mi vado a perdere vediamole tutto quello che è la parte di di cortex insight non ce l'ho ma non ce l'ho perché perché l'agent non è abilitato alla raccolta di quelle informazioni quindi manca proprio il dato grezzo per così dire devo avere il dato di raccolta se non ho il dato di raccolta poi la parte di host insight non riesce a lavorarla e presentarla nel modo in cui vi ho fatto vedere però tutte quelle funzionalità legate al mondo della protezione endpoint quindi se io vado a vedere per esempio qui vado a vedere la part endpoint policy manager vado su profili ho tutto quello che riguarda la parte di anti exploitation tutto quello che riguarda la parte anti malware tutto questo ce l'ho praticamente tutto non solo ma anche tutto quello che è legato al mondo di device control piuttosto che di host disk encryption o di host firewall questo effettivamente ce l'ho tutto per tutto e sono queste quattro righe che abbiamo visto qua ho la possibilità poi di fare live termina ma quello ce l'ho tutto quindi la possibilità da xdr di collegarmi all'endpoint e eseguire quello che voglio in locale andare a isolare effettivamente la macchina quindi isolarla a livello di rete quella macchina non parlerà con niente e con nessuno tranne xdr cloud o chi voglio io e andare a gestire quelli che sono gli alert che mi provengono da che cosa dal mondo dell'agent praticamente finisce qua ok se vado ad aggiungere la componente di pro per endpoint cosa vado ad aggiungere vado ad aggiungere poiché vado ad aggiungere tutte le capabilità di edr vado ad aggiungere anche tutto quello che di intelligence riesco a fare con queste informazioni quindi vado ad aggiungere la parte di script execution la parte di remediation analysis perché perché non solo vado ad individuare un codice malevolo ma vado a registrare tutto quello che è avvenuto prima e dopo il codice malevolo e quindi posso farmi quello che è una parte di remediation automatizzata la parte di analytics quindi tutta la parte di machine learning su che cosa point in questo caso riesco a applicarla con questa con questa licenza e tutti gli alert supplementari che la parte rara ce li ho se ho questa licenza propria in point dopodiché posso utilizzare eventualmente alert di terze parti via API quindi posso andare a inserire alert di terze parti all'interno di quella che piattaforma a quale fine non tanto perché mi piaccia gestire gli alert di terze parti per me non ha non è quello lo scopo del gioco ma andare a collegare l'alert di terze parti col processo che l'ha generato come abbiamo visto prima nel mio esempio quel curl io ho una chiamata di download next step di una lista andare a cercare sull'endpoint qual è il processo che ha fatto quella cosa se è un browser posso sperare che siamo in fase avanzata a iniziale dell'attacco se è un programma un processo schedulato ho perso nel senso chissà da quanto tempo l'attaccante è già dentro addirittura si è messo persistente con quel sistema e mi sta facendo chiamare il goalback quindi e qui posso andare a importare quindi questa tipologia di alert ha senso importare questa tipologia di alert all'interno della piattaforma ho poi la parte di trading intelligence più o meno speculare e la parte di che cosa di network mapper e pathfinder sempre all'interno della licenza pro dettagli che magari potremmo approfondire separatamente se poi aggiungo la componente di host insight che funziona solo se ho questa licenza on top riesco a utilizzare le stesse informazioni raccolte per fare che cosa per archiviare tutte le informazioni dell'host all'interno della piattaforma quindi quali sono le informazioni dell'host se vado sotto add zone host insight le informazioni di host sono legate all'accessibility all'application all'autorance ai dischi ai demoni e quant'altro a seconda del sistema operativo supportato come vedete li supportiamo tutti e la parte di vulnerability management quindi se io vado a vedere la parte di vulnerability management ho tutta la parte di cvr legate interessa poco vedere magari questa vista ho la parte di endpoint per ogni singolo endpoint ho visibilità di quali sono i cvr associati a quel particolare sistema oppure posso andare per apps e andare a vedere questo bash versione 4.3 che c'è sul mio sistema che è un sistema linux quali cvr si porta si porta dietro ok questo è un qualcosa che posso aggiungere quindi alla componente pro per endpoint e anche la parte di file search and destroy come ultimo ho la possibilità di andare a utilizzare pro per terabyte quindi mettere a disposizione terabyte all'interno del mio data lake chiamiamolo così per raccogliere log di qualcosa quali sono questi questi qualcosa questi qualcosa sono sicuramente la parte di firewall palo alto la parte di log di anche terze parti per fare che cosa per fare analytics non sulla parte endpoint che magari non ho ma sulla parte effettivamente di log dei firewall o chi per loro ho la possibilità anche qui di andarmi a prendere log di alert di terze parti utilizzando non l'API ma quello che è un broker quindi una macchina virtuale e la possibilità di utilizzare un syslog collector per andarmi a raccogliere le informazioni da firewall esterni e mandarle all'XTR piuttosto che in questo caso si utilizzare pathfinder che ha decisamente senso che cos'è pathfinder pathfinder è la possibilità di andare a installare sull'angent non protetto un sessore temporaneo che raccolga informazioni edr e le fornisca all'XTR stesso ok l'insieme di tutto questo mi permette di avere piena visibilità come vi ho fatto vedere fino adesso nessuno ci obbliga a comprare tutto possiamo decidere noi se mi interessa partire dalla parte prevent se mi interessa partire dalla parte ndr chiamiamola così se mi interessa partire dalla parte avanzata del dell'endpoint insieme o non insieme la parte di un site o prendere effettivamente tutto quanto ho risposto alla domanda penso che sia tu sia stato abbastanza più che chiaro anzi quindi se vogliamo fare un un resume noi abbiamo esatto posso fare una domanda certo sulla vulnerabili vulnerabili management come cv sono comprese solo la parte di sistema operativo microsoft o apple o linux o anche cv legate ad altri applicativi installati sui singoli host allora per quanto per quanto riguarda è qualcosa che sta sta cambiando ovviamente per quanto riguarda microsoft abbiamo i cv legati al sistema operativo e non a tutte le applicazioni possibili immaginabili esistenti perché qual è il problema è che dobbiamo mapparle per quanto riguarda linux abbiamo tutte le vulnerabilità legate all'applicativo quindi dipende dal sistema operativo che mi stai guardando questa capability esiste praticamente sia su windows sia su linux sia su mac con queste leggere sfumature di differenza quindi in funzione del sistema operativo che tu hai in mente la risposta è diversa ok grazie altre domande potete mandarle in chat come state facendo immagino ho sbloccato la possibilità di attivare il microfono chiunque voglia un po' di interattività è benvenuto sì se no diciamo che nell'ecosistema per fare un'estrema semplificazione nell'ecosistema cortex cioè la parte legata all'endpoint con le sue estensioni sia di carattere di analisi comportamentale che di io la chiamo non volermene Daniele una sorta di vulnerability assessment continuativo per l'endpoint che è Lost Insights scusatemi la semplificazione possiamo aggiungere la parte invece che va a monitorare il network quindi tutta la parte di traffico che viene collezionata e monitorata dai firewall e in base alle policy e alle funzionalità che io ho scelto e ho deciso di attivare nel mio contesto specifico e posso approfittare della potenza del cloud di palo alto che appunto è stato riconosciuto da Agid e anche da Agid per osservare osservare meglio alcuni elementi che transitano nella network che non sono solo meri eseguibili oltre tutto ciò on top posso utilizzare la manager treat hunting che è una funzionalità un servizio scusatemi aggiuntivo che offre palo alto per aiutare in collaborazione con il cliente a interpretare e a valorizzare l'informazione che ne deriva dall'analisi se vuoi correggermi Daniele direi che è perfetto io ho il difetto di andare magari troppo in dettaglio tecnico ma quello è anche se vuoi il mio ruolo quindi spero che da questo punto di vista sia stato senz'altro interessante Daniele puoi far vedere la parte di timeline sì Emanuele scusami e volevo aggiungere un'ultima cosa che stavo scordando che tutto questo non ci dimentichiamo che tutta questa successione di tool e di servizi che palo alto mette a disposizione del mondo in relazione all'analisi comportamentale e al ai tutte le funzionalità che servono per fare prevention sui miei endpoint sul traffico della network e tutto questo è collaborativo rispetto a tutti gli altri tool della piattaforma palo alto e sopra questo abbiamo anche la possibilità di utilizzare degli XOR e lo XOR di palo alto è il più raffinato almeno che io conosca ma anche il mercato lo riconosce che consente di orchestrare e automatizzare le operazioni che devono essere fatte per discriminare un falso positivo da qualcosa che ha necessità di essere analizzato con maggior rigore e quindi va a semplificare e a sottrarre tutta quella parte di complessità e di tempo che l'azienda deve impiegare per questo tipo di operazioni scusami Emanuele volevo aggiungere questo pezzetto nessun problema Nagneto ho chiesto di far vedere diciamo questa visuale leggermente diversa dalle altre per per dare appunto il senso del tempo dell'attacco nel senso che sull'asse diciamo delle X c'è proprio il tempo dell'attacco sull'asse delle Y c'è di fatto tutta diciamo la kill chain dell'attaccante esatto come ci sono arrivato qua su ogni singolo alert io posso chiedergli di vederlo sia modalità card come abbiamo visto prima con i vari pallini sia modalità timeline timeline permette di avere una visibilità nel tempo di quello che è stato l'attacco diviso sulle varie fasi della kill chain come si è messo persistente sono esattamente le stesse informazioni che dall'altra parte magari mi sarei dovuto ricostruire processo per processo ma qui sono effettivamente ricostruite e correlate a livello di tempo quindi vedrò tipicamente che cosa gli alert una fase iniziale dell'attacco perché il malware viene utilizzato inizialmente lì la fase di credential access quindi vengono utilizzate credenziali evasioni movimenti laterali avverranno gioco forza dopo e qui per esempio vediamo che psxh è eseguito dal recycle bin fino ad arrivare a tecniche di reconnaissance va bene quali sono le connessioni che effettivamente sono avvenute non sono avvenute all'interno di quello che è il mio sistema piuttosto che quant'è la banda in upload e la banda in upload utilizzata in questo preciso momento su quello specifico endpoint e questo mi permette di avere una vista decisamente diversa rispetto a prima e che a volte mi permette di facilitarmi anche qui l'analisi investigativa infatti in quella parte lì magari dell'upload può essere una sfiltration di dati da un particolare malware sicuro se poi vado ad analizzare scoprirò che all'interno di questo esempio di demo mi hanno fatto un backup dell'SQL server e me l'hanno uploadato fuori però qui ho evidenza il fatto che rispetto alla normalità durante l'attacco qui c'ho effettivamente un dato verso l'esterno e quindi qualcosa che mi interessa andare a monitorare anche a livello di eventuali connessioni eccolo qua se vado a vedere qual è il processo immediatamente precedente a questo a questo upload vedrò che si tratta di SQL cmd.exe source ip destination ip quello è il database che che mi è stato trafugato dall'altra parte l'avrei visto sicuramente qui lo vedo in quest'altra maniera a volte più veloce a volte meno però due viste diverse entrambe estremamente interessanti sicuramente un tool estremamente potente e sempre mi fa piacere vedere che in ogni prodotto che presentate producete commercializzate al di là della dell'integrazione che ha con tutti gli altri quindi questa favolosa idea della piattaforma che secondo me è il vero valore aggiunto che i clienti raccolgono è sempre bello vedere che quando noi abbiamo creduto come NGS in palo alto nel 2011 perché credevamo fortemente nel concetto di visibilità ad oggi questo concetto ha mantenuto la sua linea e ha portato vantaggi straordinari perché oggi non si può più rimanere ciechi di fronte agli eventi o al traffico perché i valori in gioco sono molto molto più alti che in passato io direi che se non ci sono altre domande abbiamo sviscerato lo sviscerabile Emanuele Daniele io e sicuramente la Francesca siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi approfondimento più personale legato alla vostra specifica tipologia aziendale o al posto vostre specifiche esigenze e quindi se non se non ci sono domande io ringrazierei per il vostro tempo e e per la vostra attenzione ottimo e ringraziamo anche noi immagino grazie a tutti grazie a tutti grazie e buone feste e buone feste a tutti grazie buongiorno grazie 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 a voi buone vacanze buone feste grazie a tutti e buone feste ciao grazie buone feste a tutti ciao grazie grazie a tutti